Aveva ragione, dovevo trovarmi qualcosa di nuovo e c'era una sola cosa da fare. Immobiliare Lifetize. Oh sì, è una bellissima casa vittoriana tutta ristrutturata. La posizione ideale è in una strada senza traffico vicina ai negozi e ai mezzi pubblici. Ha due camere da letto e una cucina abitabile. È completamente attrezzata in perfetto stato. L'armadio a muro molto capienti e tutti i confort moderni. E viene 320 sterline alla settimana. Non mi ero sistemato troppo male e me ne stavo per i fatti miei. Certo, qualche volta pensavo ai ragazzi, ma per lo più non ne sentivo la mancanza. Questa era la città del boom, dove nel caos qualunque idiota poteva arricchirsi. Molti lo facevano. Le dico quello che ho. Ho una bellissima casa vittoriana tutta ristrutturata. Mi piaceva il suono delle parole. Guadagni, perdite, margini, subentrare, affittare, subaffittare, rateizzare. Imbrogliare, fregare, spartirsi, scappare. Chi ha le chiavi di Talgart Road? Non esisteva quella cosa chiamata società. E anche se ci fosse stata, non ne facevo parte. Per la prima volta nella mia vita di adulto, ero quasi soddisfatto. Grazie.